radio bruno in diretta dal festival di sanremo che bello avere nella nostra postazione a sanremo luca barbarossa ovazione no mi devi aiutare io sono veneta di origine non riesco a dirlo bene passa mersale può andare ci sei quasi io ammorbidirei un pochino la s passa mersale ma che maestro che guarda scandisci un po meno perché il romano poi c'è una pigrizia verbale non è proprio un dialetto non è proprio una lingua come magari può essere il veneto capito passa mersale e romano non la vuoi aprire proprio la bocca perché dice che faccio la bocca poi mi tocca richiuderla ecco un po così però invece vogliamo parlare quindi aprire la bocca tutto quanto per parlare appunto di questa canzone che se non sbaglio in questo tuo nono sanremo è proprio nella storia l'unica completamente in romano 68 edizioni del festival di sanremo non c'è mai stata una canzone romana questo la dice lunga su anche sul fatto che non si sia mai forse fatto un lavoro di sdoganamento di questa lingua cosa che invece sul napoletano è accaduto è accaduto con in grande stile no pino daniele e tanti altri enzo gragnaniello ecco forse a roma c'è mancato un po di attualizzazione della lingua romana nel senso siamo sempre quando pensiamo alla canzone dialettale romana pensiamo sempre al passato e raramente pensiamo al presento al futuro e questa era quindi un po una sfida se vogliamo di fare canzoni di oggi scritte da me per la prima volta in dialetto e il fatto che la commissione qua capitanata dal grande baglioni abbia avuto il coraggio di di aprire questa porta questa strada mi fa molto piacere mi onora e sono molto felice di essere qua al festival quest'anno diciamo che fa parte di un album dove ci sono delle collaborazioni incredibili dalla mannoia mannarino e due quelle basta cioè non è però insomma già queste beh sì sono due ospiti di un certo livello c'è anche un terzo collaboratore purtroppo non c'è più che è giù magni grande storico intellettuale regista romano che ha scritto e diretto film indimenticabili su roma ha scritto anche canzoni indimenticabili nella sua tosca nella sua tosca e abbiamo scritto tanti anni fa avevamo scritto insieme questa canzone che è rimasta inedita rimasta nel cassetto e alla fine ho deciso di metterla in questo disco e fiorella non poteva non esserci fiorella e mia sorella proprio io ho una stima e un affetto profondo credo che sia una cosa reciproca ci conosciamo da tanti anni abbiamo esordito che alvese di sanremo nell 81 insieme lei con caffè nero bollente io con roma spogliata e alessandro mannarino che è un fratello più piccolo ma più grande di capoccia perché è uno che scrive c'ha una testa mica da ridere scrive delle cose straordinarie io sono un suo ammiratore eppure appartenendo a due generazioni diverse ci capiamo bene ci capiamo abbiamo in comune questa grande passione per la musica e per per la canzone per la ballad per la canzone d'autore e così l'ho coinvolto anche lui a proposito di coinvolgimento venerdì invece con l'attrice anna foglietta e se non sbaglio sempre imparando da te foglietta è un quarto di vino vuol dire quello in romano un bicchierino la foglietta la foglietta sei sei informata no la foglietta in realtà è il mezzo litro sai perché c'è sulle misure del vino c'è disegnata una foglia e fu un papa a introdurre le misure del vino nelle osterie romane perché molti osti si approfittavano e quindi non si sapeva mai quanto te ne davano di preciso quindi praticamente vennero fatte queste misure in vetro con una tacca e il vino doveva arrivare fino a quella tacca lì per essere avere la certezza che non ti stessero fregando quindi a roma il mezzo litro si chiama foglietta tanto che il quartino anche se dice dammi mezza foglietta ecco con anna come sarà canterà reciterà anna anna io potrei dire una delle mie attrici preferite ma non lo posso dire è la mia attrice preferita perché se dico una delle lei me mena e quindi e beh anna è fantastica fantastica nei film ma fantastica anche quando canta perché ha una grande passione a bella voce e sa cantare e secondo me questa canzone passamersale è una canzone dove l'intonazione l'intenzione è molto importante perché in realtà una è una confessione è un è un dialogo ecco in questo credo che anna possa dare molto io ho visto le prove quando abbiamo fatto le prove è stata bravissima vediamo l'ora quindi di sentirvi sul palco venerdì con i duetti grazie mille a luca barbarossa grazie a radio bruno viva radio bruno ciao radio bruno in diretta dal festival di sanremo in collaborazione con grissin bond modena giochi alessara guest house mondo convenienza rosanna alpi concessionaria rino franciosi cornacchini ods giocattoli e biper banca grazie a tutti